Tsunami doveva essere e tsunami è stato. Il Movimento 5 Stelle sbanca le elezioni 2013 risultando il partito più votato alla Camera e il terzo al Senato. Il dato è stato chiaro fin dalle prime ore di scrutinio ma se poi consolidato portandosi dietro la sconfitta di Casini e Fini, con Monti che invece non disdegne del risultato raggiunto e del duo in groia di Pietro, oltre al recupero fino alla soglia del pareggio di Berlusconi nei confronti del centro-sinistra. Mai come questa volta il centro-destra si identifica nel suo leader che è rinato dalle ceneri ottenendo un risultato straordinario. Sul banco degli imputati il PD che avrebbe dilapidato un vantaggio abissale nelle ultime settimane di campagna elettorale. Analisi da statistici e politologi che oggi affollano i salotti mediatici ma che lasciano il tempo che trovano. Il vero dilemma è il Paese oggi più che mai ingovernabile con l'Europa e i mercati che guardano con timore al panorama politico nazionale. Centro-sinistra avanti alla Camera con premio di maggioranza strappato per un soffio e centrodestra forte al Senato. La formazione del nuovo governo è un vero rebus e come se non bastasse c'è di mezzo anche l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica che difficilmente deciderà di assumere come primo atto quello dello scioglimento delle Camere. Idea che stuzzica proprio il Movimento 5 Stelle, convinto di poter aumentare ancora il consenso popolare in caso di ritorno alle urne. Serutelli, ex dirigente della Margherita e oggi Presidente di Api, chiede di guardare ai grillini anche per incarichi importanti come quelli di Presidente di Camera e Senato. Il segretario del PDL Angelino Alfano ha avanzato addirittura l'ipotesi di un riconteggio dei voti. E Bersani, molti invocano le sue dimissioni e forse il PD oggi rimpiange di non aver scelto il rinnovamento puntando su Matteo Renzi.